Musica Musica Buonasera, ben ritrovati a Capitani Coraggiosi. Allora, il titolo della frase che abbiamo scelto come apertura, che è giovenale, insomma, non deve cercare di fuorviarvi, perché questa volta, stasera, ci occupiamo di quelli che potrebbero essere gli investimenti, ma quelli buoni, quelli non buoni li mettiamo da parte, che le grandi multinazionali in giro per il mondo potrebbero fare sul nostro territorio. Pensate, secondo la classifica del Censis, noi saremmo tra le regioni più appetibili a livello internazionale, cioè nel mezzo alla Lombardia e alla Catalogna, proprio per attrattiva negli investimenti. Allora, il nostro marchio, che io lo chiamerei anche Made in Tuscany, perché, insomma, oltre al Made in Italy c'è proprio la parte nostra, proprio del territorio, quanto vale e soprattutto che prospettive possiamo avere a medio e lungo termine. Tutto questo noi cercheremo di raccontarlo con due ospiti che ci danno i due scenari, due punti di vista. Ve li faccio vedere con questa scheda, come sempre, non abbiamo perso le buone abitudini. Sandro Bonaceto è il capitano coraggioso di oggi. È direttore di Confindustria Toscana e di Confindustria Firenze, oltre che amministratore di Confindustria Toscana Servizi e del Consorzio Servizi Formativi alle imprese. Vanta una lunga esperienza professionale come specialista nella consulenza direzionale di aziende multinazionali e grandi aziende che ha maturato in Deloitte, una delle maggiori realtà di revisione e consulenza a livello mondiale. Relatore e chairman in numerosi convegni sulla responsabilità sociale d'impresa sul tema ha all'attivo numerose pubblicazioni. Fa parte del Consiglio della Rete e delle Associazioni Industriali Metropolitane e di tavoli tecnici tematici di Confindustria. Altro protagonista di oggi è Franco Baccani, amministratore della BAG e della BAG Produzioni, imprese di eccellenza nell'ambito della pelletteria di lusso. È presidente della sezione pelletteria di Confindustria Firenze e fra le altre cose è membro del Comitato Tecnico per la tutela del Made in Italy e la lotta alla contraffazione di Confindustria e del Comitato Anticontraffazione istituito dalla Camera di Commercio di Firenze. Buonasera, benvenuti. Da due angolazioni diverse voglio prendere, diciamo, lo stesso problema o meglio, la stessa opportunità. Buonasera, 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 Baccani. Come sempre, Cesare Peruzzi accanto a me, buonasera, benvenuto. Buonasera. Collega del Sole 24 ore, Pino Di Blaso, in collegamento dalla Nazione. Benvenuto ci sei, però un giorno ce lo devi promettere di venire qua in studio, ti vogliamo vedere fisicamente, perché poi ci piace alla fine. Ma io sono bellissimo, mi devi migliorare la qualità estetica anche dei tuoi ospiti. Benissimo, perfetto. Già la prima bordata... Infatti oggi hai dato, no, su questo. Oh, appunto. Allora, bando alle ciance, per dirla alla Toscana, un manager, un imprenditore, entrambi su un'idea. Da Confindustria, Firenze e Toscana, è partito un segnale importante, un incontro a livello internazionale in cui si faceva un po' il punto sul grado di attrattiva del territorio. Buonaseto, la sensazione che si ha, alla fine, leggendo anche quello che è emerso dal convegno, è che si abbia delle potenzialità enormi. Il problema è cercare di capire come possiamo sfruttarle. Potremmo dare già in inizio trasmissione qualche bel segnale, per esempio, di qualche multinazionale che arriva? Ma questo delle multinazionali che arrivano, io per motivi professionali non è che posso dire chi arriverà o chi partirà, perché purtroppo ce ne sono qualcuno anche che parte. Io direi che il convegno che abbiamo fatto come Confindustria Toscana, ma anche come Regione Toscana, perché sapete che era presente anche il Presidente Rossi, è stato molto interessante, ma partiva da un dato ormai risaputo. La Toscana è attrattiva, è attrattiva per centomila motivi, il fatto che è toscana, quindi è riconoscibile nel mondo come e più dell'Italia, quindi per noi c'è un vanto ad essere toscani e a lavorare in Toscana, e soprattutto perché, non ce lo dimentichiamo, la Toscana è una delle principali piattaforme manifatturiere d'Italia, e l'Italia è la seconda piattaforma manifatturiera d'Europa. Quindi noi siamo, al di là del folclore, tra virgolette, di essere un parco rinascimentale o medievale, siamo una grossa realtà manifatturiera. E soprattutto, e qui c'è Franco Baccani, che poi ne parlerà molto meglio di me, siamo una piattaforma su grandi e positivi poli. Per esempio abbiamo la nautica, che è prima nel mondo, abbiamo la pelletteria, perché anche le signore devono sapere che spesso portano bolse firmate, che nell'ambito di 20 km da Firenze si produce sostanzialmente tutto il lusso della pelletteria del mondo, quindi non solo Gucci e Ferragamo, ma anche molte marche straniere che vengono a lavorare da noi con i nostri industriali e anche i nostri artigiani. Quindi parlo del lapideo, parlo del marmo. La interrompo. Quindi Baccani onnivori ci possiamo definire noi toscani? Il re di sì. Da questo punto di vista. Il re di sì. Dov'è la criticità? Me la dica. Cioè mi dica una... Perché se no, se parliamo solo in positivo, siamo sfatti. No, no, la criticità ce l'abbiamo nella poca attenzione degli anni passati nel creare centri di formazione specializzate. Qui siamo carenti, specialmente nell'ambito della moda a quale io appartengo. C'è una carenza formativa che oggi scontiamo perché non riusciamo a trovare personale specializzato, mano d'opera specializzata, tecnici, per cui l'arrivo delle multinazionali è per noi un vanto, ma è un punto di criticità perché non abbiamo con cui soddisfarle. La interrompo. Bella e attrattiva è il titolo del servizio di Teresa Tirone e poi torniamo in spesso. Bella e che piace. Questa è la Toscana nell'immagine e nei numeri degli investitori stranieri che qui aprono aziende e creano posti di lavoro. Negli ultimi due anni le multinazionali in Toscana sono passate da 300 a 400 con in testa statunitensi, francesi, tedeschi, inglesi, giapponesi, cinesi. Il 30% di investimenti annuali in più dall'estero, oltre 807 milioni di euro di capitali stranieri e 1.030 nuovi posti di lavoro per un accumulo complessivo di 1.550 milioni di investimenti e 3.300 occupati. Tanto che il Financial Times, che ogni anno stila la classifica dei siti e delle città europee più brave ad attrarre investimenti dall'estero, ha messo la Toscana al secondo posto dopo la Lombardia e prima della Catalogna. Gli assi portanti della sua attrattività stanno nel fatto che la regione è ritenuta cuore del made in Italy con in più le eccellenze nella ricerca e nella capacità manifatturiera, ritenuta superiore che altrove. Ma non basta. Per far ripartire la crescita e valorizzare il territorio è necessario puntare ancora più in alto. Per creare una strategia comune, istituzioni ed imprenditori si sono trovati nel recente convegno di Confindustria Firenze sull'attrattività toscana. Questo per creare un clima ancora più favorevole agli investimenti che significa fiducia, stabilità istituzionale, coesione sociale, forza lavoro qualificata e ricerca. Il punto di vista degli imprenditori è importante. Dalla ricerca del Censi si emerge che per la stragrande maggioranza di loro la vitalità dell'imprenditoria toscana è fortemente indebolita. Quindi benvengano gli stranieri, ma solo il 19% si dice interessato a vendere e l'11% ritiene comunque positiva l'accessione dell'azienda. Ma la morale comune è questa, trattenere gli imprenditori italiani dalla tentazione di vendere meglio è attrarre risorse collaborative senza cedere le aziende. Oltre a rafforzare il clima di fiducia vanno combattuti alcuni noti problemi come la burocrazia, i costi energetici alti, la lentezza della giustizia civile e nell'indagine Censis, secondo gli imprenditori, questi sono i freni all'arrivo di nuovi capitali stranieri. In testa l'inefficienza della pubblica amministrazione al 49%, la scarsa produttività del sistema al 26%, i rischi legati alla criminalità organizzata e la corruzione attorno all'11%. Una nota a margine se la Toscana è in testa in Europa per attrattività di capitali, significativa è un altro suo record, è una delle regioni con il massimo numero di comitati chiamati genericamente antinovità relativi a contestazioni di carattere ambientale sulla produzione di energia, nella gestione dei rifiuti e sulle nuove infrastrutture stradali. Sta anche nascendo un comitato che si oppone al G8 a Firenze, voluto dal Premier Renzi per il 2017. La battuta sarebbe che Di Blasio appartiene a questi comitati, no scherzo, era un modo per cercare... Anzi no, no, ma francamente il testo del servizio di Teresa come al solito puntuale e rigoroso apre la stura alla domanda cruciale che dovremmo fare ai nostri ospiti. Cioè noi vogliamo attirare capitali o multinazionali o imprese? Cioè la Toscana vuole in qualche modo mettere in vendita i suoi gioielli o vuole che ci venga qualcuno ad aiutare a tenerli conservati da noi? Perché nel convegno di Confindustria, con la regia efficacissima di Bonaceto, sono emersi tante belle storie, tanti bei casi che esistono di livello della Toscana. E così anche nel servizio, sicuramente possiamo bearci del fatto che sono aumentate le multinazionali. Ma in mezzo a queste multinazionali, a parte che l'ha già annunciato anche il direttore di Confindustria, ce ne sono anche alcune che se ne vanno come la TRV per esempio, da Livorno oppure altre come è successo la Eton e l'Eletrolux. Ma quelle che arrivano, come mettiamo nel caso del Monte dei Paschi o nel caso di altre cose, cannibalizzano la Toscana in qualche modo. Diamo la risposta a Sandro Bonaceto e poi cerchiamo di far girare un po' velocemente il pallone. Sì, esatto. Non credo che dobbiamo aver paura, per i motivi che dicevo prima. Noi non dobbiamo aver paura di niente, dobbiamo far sì che siamo in un mercato globale, quindi quello che prima diventava il castello entro cui arroccarsi non ha più senso ora. È un mercato globalizzato, noi andiamo all'estero e all'esterno, perché ci sono anche aziende che delocalizzano, non deve essere anche lì un problema grosso. Il problema è tenere in Toscana l'headquarter, tenere in Toscana la testa e il cervello. Poi se noi attiriamo capitali, se attiriamo multinazionali, sicuramente insieme a Enrico Rossi gli abbiamo dato la nostra disponibilità, insieme al sindaco Nardella con cui stiamo collaborando su questo tavolo delle multinazionali a Firenze, stiamo per far venire più multinazionali possibili a Firenze e in Toscana. Ma se vengono i capitali, vengono anche i capitali. Le nostre aziende stanno andando verso l'estero. Faccio un esempio su tutto e mi viene in mente un'altra nostra eccellenza, che è quella della farmaceutica. Il gruppo Meliarini, il più grande gruppo farmaceutico italiano, che per fortuna è toscano, sta andando a Singapore da anni, con grande successo, sta espandendosi in Asia. Quindi se noi ci espandiamo all'estero non capisco perché dobbiamo aver paura che le altre aziende vengano in Toscana. E vengono in Toscana, e qui mi riferisco sempre a Franco Baccani, proprio perché vedano nella Toscana l'eccellenza in alcune lavorazioni di lusso. E siccome credo che il mondo globalizzato e i nuovi mercati, Cina, India, Far East, vengono in Italia a prendere il Made in Italy di alto di gamma, quindi pelletteria, quindi moda, quindi marmo, quindi nautica, quindi farmaceutica di livello, perché anche quella è una cosa molto importante, noi ci dobbiamo aprire e non dobbiamo aver paura. Se non abbiamo paura sicuramente faremo delle grandi cose e soprattutto aumenteremo l'occupazione dove anche in Toscana stiamo soffrendo. Poi vado da Baccani, Cesare, sulla paura, io leggevo, riprendendo il pezzo di Teresa, anche sulle percentuali, come si vedono gli imprenditori, 80% indeboliti, 19,4% interessati a vendere a stranieri, l'11% positivo a vendere addirittura agli stranieri, quindi insomma dall'indebolito si passa a tutta una serie, come dire, di gradazioni, che poi Baccani ce le spiega perché magari sono le sensazioni che vive... Dopo sette anni di crisi sfido chiunque non essere indebolito. Sono totalmente d'accordo con Bonaceto che non si debba aver paura. Mi domando se non ci fossero quelle criticità che erano evidenziate nel servizio, cioè la burocrazia, la lentezza della giustizia, il peso fiscale, cosa potrebbe fare a livello di attrattività una regione come questa, che è ancora largamente vista nel mondo come un marchio che sta a significare il bello, il saper vivere, la qualità della vita in generale, più che la qualità della manifattura, quando invece la realtà è anche quella che dicevamo prima, di una forza manifatturiera importante, molto radicata, molto diversificata, che direi forse è la caratteristica peculiare di questa regione, avere una varietà di settori e di avere dei punti di forza in molti di questi. Chiaramente ci sono delle opportunità in questo momento, perché c'è tanto denaro nel mondo, diceva la frase prima di Giovenale, il denaro non odora, non ha odore, in realtà io penso che sarebbe bene un pochino annusare prima di accettare qualsiasi denaro che arriva da ovunque, però ce n'è tanto in giro nel mondo e l'Italia può essere per i prezzi ormai depressi una porta d'ingresso importante verso un mercato come quello europeo e la Toscana quindi di conseguenza. Naturalmente il rischio è quello di ricevere cattivi investimenti. Come si fa a distinguere? Questo credo sia una criticità della fase che stiamo vivendo, sia per vicende importanti di dimensione, come può essere Lucchini o in prospettiva rapida anche l'Ansaldo Breda Pistoia, ma anche per realtà magari di medie dimensioni. E come si fa a difendersi da questo rischio? Quindi come accettare un investimento, riconoscerlo se è buono, se è un investimento che ha una strategia industriale dietro e come fare attenzione se è un investimento speculativo di breve termine? Baccani. Secondo me l'unica strada è il concetto di legalità. Io parto sempre dal presupposto che in un territorio ci devono essere delle regole certe come in un campo di calcio. Allora, se tutti si rispettano le regole, la competitività è del migliore, vinca perché sei più bravo, perché ti sei allenato meglio, perché hai strutturato meglio la tua azienda, perché sei veramente il numero uno. Allora, quello che manca in tutta questa balanga di leggi che siamo oramai subissati è la regola, la regola da rispettare, regole semplici ma efficaci. Su questo non c'è da temere da nessuna parte, perché chi viene sa benissimo quello che si aspetta. Se io vado in un paese terzo, quando mi presento, io so che devo rispettare determinate regole perché altrimenti rischio delle sanzioni importanti. Questo invece è stato il paese negli ultimi vent'anni, il paese di ben godi, che possano venire tutti, possano fare quello che vogliono e se ne possano andare via impuniti e tranquilli. Quindi mettiamo in campo delle regole che ci consentino di gestire il territorio nella massima trasparenza, nella massima tranquillità. Le potremmo prendere dall'Europa o pensa che l'Europa sia l'ennesimo capestro di salotto dove tutti litigano e quindi poi alla fine le regole condivise non le si fanno? Guardi, io penso che noi possiamo prendere, se c'è del buono, anche dall'Europa. Io credo che già nel nostro paese, avendo una geografia abbastanza variabile, ci sia da misurare bene con attenzione quelle che possono essere regole a territorio e a territorio. Mi spiego. Quello che è applicabile in Toscana molto probabilmente non è applicabile in Campania o in altre regioni. Per cui, credo che si debba innanzitutto disegnare quelle che sono le caratteristiche di un territorio, quindi di una regione, e su questa incominciare a fare delle politiche di legalità che siano poi distribuite sul paese. ma non lo puoi fare a livello nazionale d'amblè perché secondo me non può funzionare, perché abbiamo troppe criticità diverse per cui metterle insieme sarebbe difficile. Questo che lei dice ha a che vedere con quello che state facendo nella filiera della pelletteria, per esempio? Perfetto. Proprio su questo è l'argomento su cui vorrei andare. Ma mi riferisco anche al tema della contraffazione, mi riferisco al tema dell'etica sociale. Abbiamo nel paese una serie di problematiche che in tutti questi anni non sono state gestite. Quando io l'anno scorso ho letto sul mattino di Napoli che in Campania ci sono 6500 addetti che producano tutti i giorni prodotti contraffatti e il giornalista spiegava anche le collocazioni nei vari comuni di che cosa si faceva. Ora io mi domando come si può sostenere un territorio in queste condizioni? Lo Stato dov'è? Perché qui si creano delle fasce di aziende che come nel nostro territorio possono e hanno questa facoltà di evolversi anche nella legalità, nell'etica, nel rispetto dell'ambiente e via dicendo. Ma a noi si diventa automaticamente non più competitive, belli, interessanti, ma non più competitive perché poi il prezzo fa la sua differenza. In territori dove a 500 km di distanza si può fare di tutto di più. Posso intervenire un attimo? Prego. Ci sono due argomenti che francamente possono avere un punto di comune tra la mia voglia di essere un po' l'avvocato del diavolo e le tesi dei tuoi ospiti. Una è proprio questa, cioè proprio con Baccani. Una delle priorità del governo che tra l'altro si è avuto una eco-mediatica proprio nelle ultime ore è quella di spingere le griffi italiane, la moda e la pelletteria a tornare a produrre in Italia. quindi ritornando dall'estero, ritornando dai paesi a basso costo di manodopera. Questo è uno che vuol dire che la Toscana in qualche modo per esempio può cavalcare l'onda del back to Italy oppure lo guarda con distacco. Secondo, sono totalmente d'accordo che vada visto caso per caso, ma non paese per, non regione per regione, addirittura provincia per provincia e soprattutto vertenza per vertenza. perché quello che diceva Bonaceto e diceva anche lei Baccani, quella di vedere quali sono, di non avere paura, però bisogna avere una strategia. Perché io per esempio mettiamo la cosa più eclatante che sta succedendo in questo istante. Cioè voi, gli industriali, per chi fanno il tifo per la Lucchini? Che la prenda l'Algerino o che la prenda l'Indiano? Perché poi alla fine bisogna avere una strategia. Cioè non si può passare da un innamoramento all'altro. Bisogna sapere cosa vuole come progetto industriale per risollevare l'acciaio della Lucchini o l'acciaio dell'Ilva o l'acciaio di Stato. Così la stessa storia per chi deve comprare un... Non possiamo essere sempre fortunati che ci compri la generale elettrica in Nuovo Pignone oppure che Gucci compri Ricciarginori. Cioè noi siamo stati bravissimi e fortunati a finire in mano a delle eccellenze. Ma non può andare sempre così. Potrebbe andare anche peggio. Bonacetto e poi Baccani o viceversa? Io rispetto alla domanda di Di Blasio per chi tifo dico che tifo per le squadre di calcio. Per la Lucchini non tifo per nessuno. Tifo perché rimanga in Italia un'industria siderurgica perché l'industria siderurgica è fondamentale per una nazione che è la seconda piattaforma industriale d'Europa. Senza industria siderurgica sarà difficile che restiamo una grande manifattura. Quindi non sto a entrare nello specifico. Ma io tifo per tutti quelli che dall'estero portano capitali e che... E qui Pino Di Blasio lo sa perché ne parliamo ogni tanto mi telefona. chi arriva, chi va, chi viene. Devono venire quelli che hanno, come diceva giustamente Franco Baccani, le idee chiare, i capitali, perché molti vengono anche senza capitali. Quindi sulla Lucchini tifo con chi porta i soldi e crea occupazione e mantiene l'occupazione perché la Lucchini a Piombino è anche un problema non solo di piattaforma manifatturiera, è un problema anche sociale. Noi dobbiamo come industriali anche stare molto attenti che ci sia occupazione, che aumenti l'occupazione e un'altra cosa a cui noi teniamo molto e faremo anche come Confindustria Firenze e Confindustria Toscana e come sistema Confindustriale Toscano che i nostri ragazzi restino in Italia perché non ci possiamo permettere questo brain drain continuo nei confronti dell'estero. E come lei è ottimista sulla vicenda Lucchini? Io sono ottimista, da come è iniziata sono ottimista perché è iniziata, come lei sa, molto male con delle iniziative estemporanee. Ora vedo che ci sono due aziende di livello, quella indiana sappiamo bene chi è e siamo ben sicuri, vorrei che rimanesse l'occupazione a Piombino e che rimanesse l'acciaio perché non possiamo neanche pensare in Toscana e ci sono le prove macroeconomiche che possiamo campare noi e i nostri figli col turismo perché questo non è possibile. Se posso tornare a Baccani prima parlavamo della filiera della pelletteria lei citava esempi di contraffazione quindi diciamo di illegalità in alcune parti del paese bisogna dire che anche in Toscana purtroppo un po' con il cosiddetto distretto parallelo cinese nell'abbigliamento ma anche nella pelletteria sul versante più della provincia di Firenze questo problema a livello di insediamenti extra europei l'abbiamo sentito e lo viviamo questo vostro, se ce lo vuole raccontare, progetto invece e anzi è più che un progetto di tenere una filiera controllata va nella direzione che diceva lei prima è così? Sì, è proprio così Allora, le rispondo su questo che è più che un progetto perché è già un protocollo che abbiamo condiviso con tutte le altre categorie datoriali più tutte le forze sociali stiamo presentando alle varie istituzioni e a breve presenteremo creeremo un evento in cui saranno chiamate anche le multinazionali a parteciparvi logicamente sono politiche di un territorio che devono essere condivise innanzitutto dagli imprenditori del territorio poi trasferite alle multinazionali che si presentano la nostra idea è che cos'è? non è solamente quella di riepressione nei confronti di, come diceva lei delle filiere all'altra che possono essere determinate con quelle dei cinesi il nostro intento è quello di affiancare e poter convertire uno stato di pseudo-illegalità certo dove ci sono delle illegalità che vanno oltre l'etica oltre ai minimi fondamentali lì ci deve essere la repressione, punto e basta ma dove c'è possibilità di recuperare e creare un percorso virtuoso insieme alle istituzioni noi siamo pronti ad affare questo in più vogliamo che le nostre filiere e le filiere quindi delle multinazionali che ognuna di loro ha le loro polisse di controllo e via dicendo siano tracciate siano tracciate in maniera tale da avere in tempo reale sempre lo status della filiera logicamente questo è un passo molto importante che noi ci apprestiamo a fare e a proporre perché qui si entra anche poi nelle polisse aziendali dei vari multinazionali che giustamente nella moda hanno una loro filiera e sono anche un pochino restine ma non più di tanto ma ecco se dicessero di no se rifiutassero questa sorta d'accordo e di patto io lo capisco e magari poi alla fine lo dicono però alla fine lei dice ci sono delle polisse interne per cui diciamo quando si va a toccare le multinazionali ci sono logiche un po' diverse rispetto mi rimane difficile pensare che quando si parla di legalità e di trasparenza si possa dire di no si può dire troviamo insieme una strada condivisa e comune ma se uno mi dice di no vuol dire che hai già la presunzione di entrare in un contesto di illegalità altrimenti non è discutibile il fatto che sulla legalità e sulla trasparenza ci possa essere o no a priori quindi il punto è la tracciabilità del prodotto di pelletteria? diciamo la tracciabilità delle filiere di conseguenza viene quella della pelletteria quindi ritorna anche in ballo questo back to Italy per esempio qualche produzione che all'estero tipo in Moldavia o in Europa può tornare in Italia in Toscana? ma quello dipende dipende dai committenti sicuramente potrà rimanere anche in Moldavia o dove si trova l'importante è che ci abbia il suo medie in Moldavia o il suo medie in Romania o dovunque esso sia fatto non è giustificabile non è tollerabile che si faccia produrre all'estero e poi si etichetti Made in Italy questo noi lo dobbiamo impedire lo dobbiamo combattere con tutte le forze perché questo è un danno per il nostro paese a livello economico a livello di risorse in forze di lavoro è un danno per le nostre aziende per cui questo è un obiettivo che noi ci dobbiamo porre con forza e senza compromessi ma questo però è un problema davvero europeo è un livello europeo perché nessuno va risolto là ma è diventato un livello europeo perché nessuno ha l'interesse di fuori di noi che abbiamo questo valore aggiunto che ci ha riconosciuto da tutto il mondo perché per le nostre capacità e per il nostro saper fare che in tutti questi anni siamo riusciti a dimostrare e a rappresentare che abbiamo questo Made in Italy e quindi se noi siamo i primi a non crederci a combattere con forza questo patrimonio che abbiamo allora è logico che gli altri non ce l'hanno non gli interessa combattere una guerra che non gli appartiene vediamo cosa dicono di noi dall'estero diciamo in questa sorta di finestra che apriamo sul mondo Toscana regione ambasciatrice d'Italia per gusto arte stile di vita e per i notissimi brand della moda e del vino ma con tante eccellenze messe poco a frutto una specie di rendita di posizione snobbata che ci rende poco attivi nel saper sfruttare quel tanto che abbiamo così ci vedono da fuori da quanto emerge dalle pagine della stampa estera analizzata dall'osservatorio del massmediologo Klaus Davi il panorama è ampio e spesso pittoresco Le Figaro si stupisce per la scarsa attenzione riservata alle vestigia napoleoniche all'isola d'Elba i russi restano sorpresi dall'assenza dei servizi che sfruttino la predilizione per i conterranei a sposarsi in Toscana gli inglesi consigliano di aprire un museo dell'oro ad Arezzo e il Los Angeles Times denuncia la mancanza di un'app dedicata ai piccoli ma ricchissimi musei della Toscana che andrebbero fatti conoscere incapacità a creare brand a valorizzare il territorio questa è la critica di fondo come non condividere questi appunti al nostro marketing territoriale dato che ci mettiamo ampliamente del nostro solo in Italia e certamente in Toscana esiste una forte separazione tra pubblico e privato e si critica l'uso di musei e siti monumentali per sfilate o eventi la caccia agli investitori passa anche dal sapersi vendere al meglio favorendo così scambi commerciali e finanziari qualcosa però si è mosso l'accordo siglato tra Confindustria e Camera di Commercio USA che prevede una serie di iniziative per far conoscere oltreoceano le opportunità di investire e comprare in Toscana ed informa i nostri imprenditori sugli investimenti per aprire aziende in USA aziende spesso piccole che accrescendo lì l'export possono fare un salto in avanti per essere competitive nella globalizzazione Cesare l'osservazione delle fighe rocce ha fatto sorridere poi alla fine proprio su Napoleone sono sempre un po' sciovinisti i cugini francesi però non credo che il problema sia Napoleone per la Toscana però io ho fatto questa battuta su questo pezzo perché mi interessava a capire anche come si comporta l'estero diciamo le altre nazioni con i propri gioielli definiamoli così quindi ritorno un po' alla domanda se pensiamo al protezionismo della Francia se pensiamo al ragionamento degli americani che per andare ad aprire un'azienda ci vuole la fiscalità americana quindi bisogna cercare di mettere tutta una serie di strutture sul territorio e bisogna dare anche delle garanzie ben precise che queste strutture crescano si sviluppino paghino le tasse sempre in questo territorio poi mi viene da pensare a casa mia e mi accorgo che tutto questo noi non ce l'abbiamo questo è un altro problema tra virgolette importante anche che un imprenditore italiano come dire in qualche modo si deve si deve un po' porre se posso permettimi visto il servizio emerge sempre di più il fatto che noi forse abbiamo tanto di patrimonio e non ce ne rendiamo neanche conto e non lo sappiamo neanche valorizzare tendiamo a banalizzare quello che noi facciamo un francese fa un qualcosa e lo enfatizza all'ennesima potenza noi quel qualcosa che fa il francese lo facciamo cento volte meglio e lo rendiamo così normale perché per noi è normale quindi il marketing territoriale è fondamentale far trasmettere all'estero chi siamo è fondamentale perché noi diamo per scontato che ci conoscono ma non è così quante aziende buonaceto ci sono che potrebbero avere interesse ad investire per esempio negli Stati Uniti e viceversa quante americane potrebbero arrivare da noi in più stavo vedendo la camera di commercio americana accanto a lei non sto a quantificare la cosa però con l'American Chamber of Commerce stiamo facendo questa iniziativa con Confindustria Toscana proprio perché riteniamo che essendo gli Stati Uniti un nostro grande mercato ci possa essere molto interesse sia da una parte sia dall'altra però anche qui lottiamo contro qualche problema il primo di tutti è la burocrazia che negli altri paesi non comprendono proprio quindi una delle difficoltà è proprio questo quindi per quale motivo sono principalmente le multinazionali a venire da noi perché le multinazionali sono talmente strutturate che quando arrivano risolvono i problemi a prescindere e noi le aiutiamo a risolvere i problemi la piccola media impresa venire in Italia sinceramente è un grosso è un grosso problema riteniamo che noi possiamo far venire delle aziende possiamo facilitare quel fenomeno che esiste in tutto il mondo industrializzato che si chiama con una parola inglese reshoring nel senso che le lavorazioni che sono andate fuori perché si cercava un costo del lavoro più basso e qui parlo soprattutto degli Stati Uniti ma anche in qualche misura dell'Italia poi alla fine tornano indietro perché come sapete anche in Cina in India in Vietnam ormai si sta alzando beh sì io penso che a dieci anni a questa parte il costo del lavoro più o meno siamo la cosa bella è che si sta abbassando in Italia c'è un un livellamento a livello mondiale sono trend che partono adesso e che si dispiegheranno in vent'anni però quello che dice lei di Blasio è proprio vero cioè ci sarà un livellamento complessivo anche se io ritengo che difficilmente un imprenditore esce dall'Italia solo per il costo del lavoro questo è un po' una bufala che non ha senso come dire che la Apple fa gli iPhone in Cina per il costo del lavoro non è non è questo ma soprattutto in settori come quelli toscani la moda poi al di là dei servizi di report però non possiamo cascare dalle nuvole ragazzi cioè non è che non è che lo dico io o c'è qualche cosa ci sono la maggior parte dei capi sono prodotti altrove il cervello italiano il design è italiano ma la produzione di quella del Fason è tutta straniera non è che riguarda un agrifo il problema vero per una per una regione per una nazione è che il valore aggiunto rimanga all'interno della della nazione che guida tanto per fare un esempio ci sono studi di grandi riviste tipo Harvard Business Review sulla catena del valore dell'iPhone che è ormai il il pezzo iconico dell'industria mondiale e questo prova che nonostante che l'iPhone sia prodotto in Cina il valore aggiunto rimane in California ma l'80% del valore aggiunto quindi io sinceramente non vorrei diventare come Toscana la terra in cui produco l'iPhone per gli americani io devo invece tenere qui le produzioni che mi tengono valore aggiunto e occupazione in Toscana non mi interessa avere i volumi o avere il prodotto iconico io voglio come sta facendo Franco Baccani e i suoi colleghi di lavorare per i grandi marchi mondiali e italiani perché chiaramente è meglio un marchio italiano che lascia il valore aggiunto qui da noi oppure le grandi multinazionali che hanno fatto delle opere fondamentali prima il direttore citava l'esempio di General Electric quando Nuovo Pignone venne venduto agli americani basta vedere i giornali si successe il finimondo invece abbiamo la prova che con gli americani come General Electric che hanno capito che valorizzando il patrimonio della Nuovo Pignone avrebbero fatto anche il loro bene hanno creato una industria un'azienda che ha portato occupazione valore aggiunto in Toscana in Italia a Firenze e a Massa Carrara e tutti vissero felici e contenti abbiamo degli esempi luminosi questo della General Electric che fa lei è perfetto poi abbiamo anche degli esempi della Eli Lilli addirittura dell'Eli Lilli l'esempio della Farma Valley che Enrico Rossi giustamente dice che qui in Toscana esiste una vallata della industria farmaceutica ed è verissimo perché siamo la terza regione con più industrie farmaceutiche d'Italia e questo è quello che bisogna fare perché abbiamo attirato in questo modo tutte le industrie le aziende farmaceutiche di quasi tutto il mondo abbiamo anche un altro esempio se mi permetto anche nella moda nel momento in cui Gucci fu venduto ai francesi è la grande paura che cos'era quella di disperdere questo valore invece è stato dimostrato in termini molto tecnici che Gucci ha investito sul territorio Gucci ha dimostrato al mondo intero e qui è un grande plus per noi che per essere competitivi non c'è bisogno di andare all'estero perché le produzioni di Gucci sono state fatte in Italia in particolarmente in Toscana e questo è stata una dimostrazione per altri imprenditori anche italiani che si sono esternalizzati per rincorrere un concetto di economia di scala oggi stanno ritornando in Italia ma grazie a che cosa? Grazie alla dimostrazione anche tecnica e pratica di aziende come una multinazionale che è Gucci che nel nostro settore della moda e della pelletteria ha dimostrato che si può essere competitivi se si sorganizza bene con le filiere e se si sorganizza bene con un processo industriale e con della trasparenza e con della legalità si può essere vincente lo stesso senza andare a giro per il mondo vado in pubblicità ci vediamo tra poco Pino abbi la pazienza e la cortesia poi torno da te faccio un po' di raccolta pubblicitaria non guasta tra poco e la cortesia non guasta non guasta Ben ritrovati a Capitani Coraggiosi insieme a Sandro Bonaseto, direttore di Confindustria Toscana e Franco Baccani, un imprenditore nel settore della pelletteria. Abbiamo cercato di spiegarvi brevemente quella che può essere la grande opportunità di questo Made in Tuscani perché l'abbiamo voluta chiamare così la puntata. Pino, io ti avevo tolto la parola ma come te la tolgo te la restituisco, a te. Sì, io volevo solo dire che effettivamente sono d'accordo con Cesare quando dice che tutte le trovate di musei napoleonici o musei dell'oro o musei dell'olio lasciano il tempo che trovano perché quanta musei noi ce ne abbiamo talmente tanti e poi li lasciamo con troppi custodi e senza nessun turista ovunque. Il problema è come dicevano Bonaseto e Baccani, è quello di creare una sorta di cabina di regia per attirare investimenti ed è quello che stanno facendo sia Confindustria sia la Regione. C'è un ufficio semplificatore per le multinazionali, una sorta di sportello unico che ha aiutato diversi investimenti anche fuori dagli esempi virtuosi che citiamo fino allo sfinimento da Pignone, Lilli e a Gucci. C'è per esempio anche il coso di aver risolto uno dei problemi di Prada facendoci il ponte di Leonardo, quello sull'autostrada, oppure quello di aver risolto del castello di Caffagiolo per l'argentino che ha comprato la villa là e che vuole investire 150 milioni. Questi sono esempi sia positivi sia di raccordo tra territorio e contro la burocrazia che in qualche modo migliorano il tessuto. Però voglio solo presolecitare il direttore Bonaseto e anche il presidente Baccani per sapere se c'è una strategia vera di un'attrazione di multinazionali importante. Perché tra le altre cose con l'America c'è il discorso con il TTIP, con Transatlantic, Trade, Investment and Partnership, che è molto complicato e per la Toscana potrebbe rivelarsi anche un mezzo boomerang se continua così. Allora, Bonaseto per la risposta e poi dopo Cesare. Intanto io credo che noi possiamo fare e facciamo, come ha detto lei, sia come Regione Toscana, come Confindustria, come dicevo prima, come Comune di Firenze con l'iniziativa di Dario Nardella sui multinazionali. Però non siamo in un'economia pianificata, non abbiamo più le leve di economia e di programmazione industriale che c'erano 30 anni fa. Quindi noi possiamo porre soprattutto le istituzioni locali, regionali e comunali e naturalmente il governo italiano può dare un contesto ottimale per le multinazionali. Però le multinazionali vengono per conto proprio. Non è che noi possiamo fare, non abbiamo virtù taumaturgiche, meno di tutte devo dire Confindustria, molto modestamente, perché non possiamo. Certo, facciamo il possibile. Con l'American Chamber of Commerce, quello che ha detto Di Blasio è molto centrato sull'accordo che nessuno conosce, però noi vi posso assicurare che ci stiamo impegnando moltissimo perché si faccia velocemente. Non credo che sarà un boomerang. Io credo che... E prevede proprio una parola per capire. No, prevede semplicemente che le transazioni commerciali tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea siano molto più libere, perché nonostante quello che si dice che gli Stati Uniti è la terra delle libertà economiche... Ci sono dei muri imparicabili. No, ci sono dei muri comprensibili. Ci sono barriere all'entrata di un certo tipo. Non è facile esportare. Soprattutto, e lo sa bene Di Blasio, ci sono problemi con l'agroalimentare, perché ci sono tutte queste contraffazioni di natura parmesan e tutto il resto che sappiamo bene. Vale 60 miliardi di euro, no? Allora, vedo difficile che sia un boomerang. Tant'è che ci sono alcune lobby che a Bruxelles tentano in tutti i modi di far saltare questo accordo. Io credo che si farà a breve. Abbiamo parlato proprio poco tempo fa in Confindustria Firenze con la delegazione americana che sta trattando questa cosa. È complessissimo perché ci sono problematiche veramente di tutti i tipi. Io credo che entro un anno si firmerà. E questo potrebbe dare delle buone prospettive anche al PIL italiano, perché sicuramente noi abbiamo più possibilità di loro di entrare nel loro mercato, che hanno tenuto sempre ben sbarrato. Cesario. Importante che sia un accordo positivo, come auspichiamo, perché chiaramente, lo diceva bene il direttore Bonasceto, un accordo poco positivo potrebbe compromettere seriamente alcune filiere produttive italiane, Toscana in particolare, come nell'agroindustria, ma non solo. Presidente Baccani, sono curioso di, e le faccio questa domanda, di sapere se nel settore della pelletteria, che è uno dei settori trainanti dell'economia toscana, si sta andando verso un consolidamento, come par di vedere, della filiera produttiva, quindi, diciamo, anche la fornitura, la subfornitura tende a fare massa critica, e se un eventuale interesse di investitori stranieri è rivolto solo verso le grandi griff, abbiamo citato prima Gucci, o anche verso pezzi della filiera che si stanno compattando e quindi acquistando dimensione importante. Io credo che la domanda abbia una risposta con la quantità di reti d'impresa che sono state fatte specialmente nel mondo della pelletteria. È anche vero che il nostro territorio è un territorio atipico al mondo, perché quello che rappresenta la Toscana nel mondo della pelletteria è unico, a partire dal distretto di Santa Croce, quindi nel distretto Pisano, a Firenze e dintorni, dove abbiamo concerie, aziende che trasformano in prodotto e aziende che producono accessori metallici a livelli veramente di alta qualità. In più abbiamo tutto un indotto che è nascosto, i famosi indotti sotterrani, di piccoli artigiani o di aziende che sono specializzate nella qualificazione dei macchinari, e la messa a punto per lavorazioni particolari, che non esiste a nessun'altra parte del mondo. Perché in un'altra parte del mondo si comprano le macchine, si piazzano e si mette l'operare a lavorare. Gucci l'aveva vista lunga. Eh, Gucci l'ha vista lunga. Gucci ha avuto un management con una visione strategica e i risultati gli hanno dato ragione. Allora, io invece vi faccio vedere la storia di un imprenditore che ha venduto una bella fetta della sua azienda ai tedeschi, con l'accordo che questi tedeschi diano una mano ad aumentare i volumi, perché lui non ce la faceva a farlo e le richieste erano importanti. Vediamo. Ripartire con il marchio alla conquista del mercato, ristrutturarsi in modo più forte, costituendo una spa. È la scelta fatta da Gianfranco Lotti, con la sua azienda bottega manifatturiera borse di Scandicci, in provincia di Firenze, che è diventata tedesca con un'operazione supportata dal fondo private equity, Halder, e volta a garantire continuità, investimenti e rilancio. Al termine dell'operazione, BMB fa capo all'80% a Halder e per il restante 20% ai manager e a vela imprese. Un marchio forte già ben posizionato all'estero, queste le motivazioni del fondo tedesco ad investire. Il nostro marchio, diciamo, ha comunque una storia, viene da lontano. Infatti, fino al 1997 noi avevamo già più di 40 negozi aperti in tutto il mondo, come Gianfranco Lotti. E quindi, questa è stata una delle ragioni per cui il fondo è stato interessato, attratto da questo marchio, che a questo punto non aveva più, diciamo, quella visibilità di un tempo, ma che ne manteneva le caratteristiche qualitative. Io, finalmente, ho deciso di fare questo passo, che non è stato un passo semplice, ma dettato anche dal fatto che io non ho due figli, ma che nessuno di loro lavora in azienda, quindi un fatto di successione, eccetera. Quindi, parlando con questo fondo, ci siamo resi conto che loro erano veramente interessati al nostro marchio. E quindi, cosa vuol dire questo? Avere la certezza che anche per l'azienda ci sarebbe stato un futuro. La società, produttrice in proprio per il marchio Gianfranco Lotti, con negozi aperti a Parigi, Londra, New York, Mosca e in alcune città cinesi, e che lavora anche per i grandi nomi del lusso, nel 2013 ha prodotto un fatturato di 36 milioni di euro, impiega 100 persone e sta investendo circa 30 milioni di euro per sviluppare ulteriormente la produzione, con l'obiettivo di raddoppiare i ricavi, allargando la propria base di clienti e naturalmente assumendo nuovo personale. Noi abbiamo già assunto, penso, forse una quindicina di persone nell'ultimo anno. Stiamo, diciamo, per costruire un nuovo stabilimento qui davanti, sono 2.000 metri, che dedicheremo totalmente alla produzione del Gianfranco Lotti, e quindi sicuramente saranno previste altre assunzioni per le funzioni che andremo a sviluppare. Gli obiettivi sono di arrivare nei 5 anni a produrre 160 mila borsi all'anno, è un obiettivo dichiarato su cui noi stiamo lavorando, che dobbiamo, come dire, accelerare sempre di più perché gli investimenti sono così importanti che non li possiamo lasciare da soli, e quindi dobbiamo creare anche un'economia che ci consenta di non dipendere dagli investimenti, ma di essere autosufficienti. Alder, attivo tramite il fondo Alder GMV Germany, negli ultimi anni ha fornito il capitale a 35 piccole e medie imprese in Europa. È la prima operazione in Italia nel settore alta moda, settore che comunque presenta alcune criticità. Ma gli elementi di criticità prima di tutto sono legati al fatto che non abbiamo ancora deciso di proteggere questo nostro Made in Italy. Noi non possiamo negare che se si permette che il Made in Italy sia, come dire, anche venduto nonostante non sia poi un Made in Italy, questo chiaramente non ci favorisce e crea confusione sui mercati. Chi non è Made in Italy, chi non ne ha la qualità e le caratteristiche, perché non le produce in Italia, ovviamente deve essere stoppato e quindi deve essere anche punito. Questa è una storia di un imprenditore illuminato, perché si accorge che la famiglia non lo segue. Ha bisogno di trovare degli investitori, li trova in un fondo che crede in questo marchio, perché spesso e volentieri si potrebbe trovare anche degli speculatori o comunque soggetti pericolosi, e fa un investimento vero. assume persone, ha un obiettivo, 130.000-140.000 borse in un anno, che voglio dire cominciano ad essere un qualcosa di veramente importante. Questi sono i parametri forse del modello giusto. Indica una strada possibile, probabilmente per molte medie aziende della regione, che hanno il problema della successione, del passaggio generazionale. Mi pare che la vicenda di Lotti sia emblematica di come si può fare. Dell'aumento dimensionale anche. Allora, proprio una riflessione su questo, buonasciate poi Baccani, poi proseguiamo in questo percorso, siamo quasi in conclusione. Cosa vuol dire oggi fare un ragionamento di questo genere per un imprenditore che porta con sé, diciamo, dei tedeschi e li mette nell'azienda poi alla fine? Quello che avete detto voi, fare un ragionamento intelligente e lungimirante, senza avere la superbia di dire vado avanti a prescindere, senza guardarmi ai lati, ma aprirsi al mercato e alle esigenze. Poi tra l'altro anche sul problema della successione, che è un punto fondamentale delle problematiche dell'industria toscana, io dico sempre, non è obbligatorio che i figli degli imprenditori debbano fare gli imprenditori. Facciano lo stesso mestiere. No, possono fare benissimo un altro mestiere, che a me sinceramente piacerebbe molto fare, quello dell'azionista, perché... No, perché non è vero, scusate. Dell'azionista fortunato. Dell'azionista. Se non sono in caso. Perché se uno che fa un imprenditore vuol diventare architetto, perché ha delle... Delle caratteristiche diverse. Baccani, che vuol dire per un imprenditore che ha fondato un'azienda a vedere che il figlio magari non lo segue, io sto parlando di uno dei problemi, diciamo, tra virgolette nostri, nel DNA genetico dell'italiano. Sta toccando uno dei temi più importanti. Indipendentemente dai figli, noi abbiamo anche un altro problema. Perché io ho due figli, ma sono troppo giovane per poter pensare che possano percorrere le mie stesse orme. Quindi il problema generazionale mi si pone lo stesso. Noi dobbiamo pensare che la classe media dirigente della pelletteria, quindi l'imprenditore della pelletteria, se voglio star basso, è la media 45 in su. Per cui fra dieci anni incomincieremo a avere delle grandi criticità di trasferimento della gestione delle nostre aziende. Per cui questo è un problema. Quello che rappresenta Lotti oggi è l'evoluzione, i tempi moderni, di quello che è stato nel passato. Cioè nel passato si diventava garzoni di bottega e poi, come ha fatto Gianfranco, ti mettevi in proprio e ti diventavi imprenditore. Oggi Gianfranco dimostra e ha dimostrato che si può... l'evoluzione del ragazzo di bottega. Quindi oggi da imprenditore, per poter vedere scenari, per poter affrontare mercati importanti e obiettivi importanti, bisogna allargare le proprie vedute e quindi fare sinergie con altre aziende. Siamo in conclusione. Allora, le foto sono una specie di determinante della chiusura della nostra trasmissione. Noi ve le facciamo vedere, poi chiediamo un commento anche secco ai nostri ospiti, ma non solo. Qui andrei da Di Blasio a chiedergli che cosa vuol dire per te Pinocchio, però dammelo un aggettivo, su. Pinocchio è autobiografia. È autobiografia. Perché Pinocchio è l'unico romanzo che è finalmente adolescenziale vero della letteratura italiana. Questo mi sfondi una porta aperta, c'è la nuova letteratura, una letteratura adolescenziale, invece in Europa abbiamo una letteratura molto vecchia. Rivediamolo Pinocchio mentre ce lo spiega Pino. Eccolo qua. L'unico romanzo veramente adolescenziale, bellissimo, molto meglio del giovane Holden, molto meglio anche del cardellino di Donna Tarte, è Pinocchio. Buonasera, Paccani, è uno dei marchi distintivi dell'Italia. Perché all'estero, secondo una ricerca, insieme al gallo nero, che è un altro segno distintivo, in questo caso toscano per il vino, Pinocchio è uno degli emblemi più riconoscibili del nostro paese. È paradossale, no? Questo tra l'altro è quello di Walt Disney, grazie a questo punto di vista. In effetti hai sballato totale. È conosciuto in tutto il mondo. È conosciuto in tutto il mondo. Grazie anche a Walt Disney. È conosciuto in tutto il mondo, grazie. No, non è vero, è stato... È il film di Walt Disney più sbagliato di tutti i suoi Walt Disney. Ci ha rovinato anche Pinocchio. Ora sappiamo che Pinocchio di Blasio ci insegna anche sul cinema d'animazione. Allora, insomma, ci sono sbagliato di scuola. Sono il massimo esperto in casa, io. Potrei dire che Pinocchio oggi rappresenta l'italiano, no? Perché vediamo che sul naso ha il grillo. C'è il grillo che lo ammonisce. E quindi l'italiano è Pinocchio perché riconosce quali potrebbero essere le sue potenzialità, ma è Pinocchio con se stesso perché non le vuole accettare, non le vuole lottare per queste potenzialità che ha. Ma Pinocchio è una storia positiva, perché finisce bene. E non è solo per bambini e per adolescenti. No, no. Ma anche per gli adulti. Ma il grillo finisce. Prego, prego. Intanto vediamo un'altra, perché qui l'ha avuto sulla musica anche. No, ma Sting, se vi piace. Vi piace Sting? A me no, sinceramente. Però seguo una scelta sui ragionamenti, anche se lo vediamo poi vi faccio una domanda. A me non è il tipo di musica che mi piace molto, Sting, i Police, poi si è ritirato, il sesso tantrico non mi piace. Si va su Vecchioni? No, no. Neanche. Non mi piace. Un po' troppo a sinistra Vecchioni. No, 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 per carità di Dio. Stavo dicendo un'altra cosa, parliamo delle multinazionali, parliamo di queste cose, ma io dico che un altro punto fondamentale che abbiamo in Toscana, che si sta sviluppando fortemente, io sono molto soddisfatto e contento, è quello delle start-up, perché io ritengo, ritornando al discorso di prima, che dobbiamo dare occupazione soprattutto ai nostri figli, vediamo, e su Confindustria Firenze abbiamo fatto un'operazione pionieristica anche nell'ambito nazionale di Confindustria, mettendo una commissione merceologica che si occupa di start-up e dicendo che tutte le start-up possono aderire a Confindustria Firenze per due anni, a costo zero, sia come quota associativa, sia come servizi. Servizi offerti. Con Fabrizio Landi, che è presidente e consigliere incaricato su questa cosa, stiamo facendo delle iniziative molto forti e in un solo anno abbiamo associato con l'ingegneria Erlandi 100 start-up e vediamo che c'è molta, molta vivacità in questo senso. Io credo che questo, oltre che le multinazionali, oltre gli imprenditori che ci sono adesso, che, come diceva giustamente Franco Baccani, dobbiamo ringraziarli per il lavoro che fanno ogni giorno di tenere aperte le aziende in un periodo così forte, di forte difficoltà, dobbiamo sviluppare le aziende dei giovani e questa è anche una risposta a questo problema di successione. Vediamo un'altra immagine caratteristica. Questo noi lo troviamo a Palazzo Vecchio, festina lenta, la tartaruga con la vela A frettarsi lentamente Che ci dà un po' il timing. Lei si ritrova a Baccani in questa, diciamo, rappresentazione? Direi in parte, lenti perché veniamo da un retaggio in cui il confronto con il mondo non è stato uno dei nostri insegnamenti. Ci stiamo affrettando perché il mondo, logicamente, necessita di velocità, per cui la nostra tartaruga dovrà correre più veloce e spinta dal vento. L'americano di riferimento è Jobs, che ha detto una cosa simile quando... Ti posso richiamare, sono in televisione, ti richiamo tra cinque minuti. Quando è partito, intanto Pino Di Blaso chiacchia la telefona, ma vabbè, ma questo è il bello anche della differita o della diretta. T'ho beccato, ti ho beccato. È vero, altra fotografia, questa gliela faccio commentare, prima a Cesare e poi a Pino. Dice, vabbè, Tony Blair. Che cosa suscita Tony Blair da questo punto di vista? In tutto velo ci siamo detti fino a questo momento. Poco o nulla? No. Spero che il nostro Tony Blair sia anche più efficace, diciamo, sia più efficace del Tony Blair inglese. Poi è Toscana. Visto che si ispira al nostro premier, comunque, anche alla politica. Sicuramente è uno... Borracetto e Baccani, favorevoli o contrari al blerismo? Ecco, tanto per utilizzare il neologismo. Io sono favorevole al cambiamento. Anch'io sono favorevole al cambiamento. Ok, bandiere alzate. Pino a te non lo chiedo, perché... A me chiedilo invece. No, scusa, ti faccio quest'altra fotografia, poi chiudiamo, perché sennò già sono... No, ma su Tony Blair, vorremmo parlare anche su Tony Blair. Ecco, qui però c'è Putin. Eccoci. Ah, ecco, perfetto. Che idea ti fai di lui? Poi mi fermo. C'è la camicia nera. Putin è un altro di quelle, delle sottovalutazioni più grosse degli oligarchi. Voi sapete come è stato scelto Putin come successore di Jeltsin nell'Unione Sovietica? Diccelo in un secondo perché sono in conclusione. Un oligarcho è andato, Berezowski, è andato in Francia, a Biarrizio, dove Putin alloggiava in un hotel di tre stelle con la moglie e gli ha chiesto se si voleva candidare a fare la presidenza della Russia. Lui dice ma non sono in grado, dice ma che ci vuole, tanto ci pensiamo noi. Si è visto come è finito poi con gli oligarchi. Perfetto. Buonasciuto, Baccani, Putin, che vuol dire Russia, che vuol dire comunque gli investimenti che arrivano anche a volte con denaro importante qua da noi. Un oggettivo, eh? Si ritorna alla frase iniziale di Giovenale? No, scherzo. Beh, bisogneriai bannosarli. Buonasciuto. Io dico che la Russia e l'Est europeo è un mercato molto importante e credo che ci siano anche dei capitali interessanti e se vengono e hanno le caratteristiche che dicevamo non vedo perché rifiutarle. Grazie, grazie a Bonaceto, grazie a Baccani, Cesare Peruzzi, Pino Di Blasio, gli amici di sempre. Vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a martedì prossimo. Buon proseguimento. Grazie a tutti.